Mancano due giorni alla conclusione del 63esimo festival di Cannes e la giornata si è caratterizzata per l'unico film italiano presentato in concorso La Nostra Vita di Daniele Lucchetti poi è stato presentato il film inglese Rout Irish di Ken Loach che è stato aggiunto all'ultimo momento al cartellone della competizione e infine Fair Game, il thriller politico diretto da Doug Liman il regista di The Born Identity con Sean Penn e Naomi Watts Il film italiano La Nostra Vita, la proiezione per la stampa c'è stata un'accoglienza piuttosto contraddittoria ha prevalso soprattutto il silenzio intervallato tra qualche applauso e qualche fischio vediamo più tardi quando verrà presentata la proiezione per il pubblico quale sarà invece l'altro tipo di reazione per quanto riguarda l'incontro con la stampa è venuto tutto il cast e Lucchetti soprattutto ha voluto evidenziare il fatto che è cambiato comunque il panorama urbano di certe città dove è stato il gira del film soprattutto quella zona sul litorale vicino al mare prima si era caratterizzata dagli incontri con la piazza invece adesso prevalgono soprattutto i centri commerciali che diventano dei luoghi di incontro per quanto riguarda Germano invece ha detto che lui si è avvicinato a questo personaggio questo personaggio comunque caratterizzato da un lutto che poi fa scattare un qualcosa di diverso lui come se volesse sfidare il proprio destino e quindi va alla ricerca di un benessere da dare ai propri figli che lui non ha mai avuto e il personaggio di Germano lo ha detto che per la parte di Claudio si è voluto preparare nel modo più professionale possibile non rinunciando comunque alla propria interiorità per quanto riguarda Fair Games Fair Games era assente Sean Penn come era già stato precedentemente annunciato però Naomi Watts ha parlato molto del personaggio di Valerie Plame l'agente segreto della scia a cui la storia è ispirata è una storia vera Naomi Watts ha incontrato la vera protagonista anche se ovviamente non è riuscita a rintracciarne carpirne e prenderne tutti i segreti e comunque ha detto che loro si sono sentite via e sia via mail e sia comunque anche in molte scene e ha cercato soprattutto di assomigliare la look soprattutto nel modo dei capelli perché comunque ha detto che da questo punto di vista lei aveva dei capelli molto particolari inoltre Doug Liman in ogni modo ha voluto evidenziare come sì la storia vera gli interessava tutti gli intrighi politici la scia, l'amministrazione bus, la ricerca delle armi di distruzione di massa però soprattutto gli interessava la storia, i personaggi ed è per questo che comunque si è appassionato e mentre stava girando non stava pensando che questa vicenda era realmente accaduta anche lui realizza in qualche modo un film di guerra ambientato a Baghdad a un anno dalla presentazione proprio qui a Cannes del mio amico Eric con Eric Cantona e c'è da vedere che si cambia totalmente il regista e timbro se quel film si poteva avvicinare a una commedia qui invece i risvolti sono più drammatici ci sono anche degli sguardi sulla guerra, sguardi su Baghdad ma poi l'ambientazione e la storia prevale sull'amicizia di questi due personaggi da Cannes, Simone Emiliani